Che cos'è un teaser video? Un'anteprima, diciamo, di un lavoro che serve per richiamare l'attenzione del pubblico e metterlo in attesa. E' come dire, restate connessi, sta arrivando qualcosa, abbiamo in preparazione qualcosa per voi. Non è un trailer, perché un trailer di un film normalmente è un riassunto, qualcosa che si fa a finito, in cui il film è annunciato, talvolta anche molto rivelato. Invece un teaser è l'evocazione del lavoro. A volte può essere anche solo il titolo, un testo, un effetto, altre volte c'è veramente della materia video, filmica. Serve veramente a attizzare le antenne dello spettatore, dargli voglia di aspettare il lavoro finito. Allora, questa domanda sul teaser video non è una domanda facile, perché la risposta può andare in moltissime direzioni. Lo dice la parola stessa, dal verbo to tease, titillare, far venire curiosità. E' un verbo che ha anche una connotazione di evidente erotica. Perché così magari ti domandi che cos'è questa cosa che mi sta intrigando, mi sta incuriosendo, magari mi viene voglia di vedere il prodotto completo. Beh, ha un impatto nel momento in cui è qualcosa che serve ad agganciare l'attenzione, a promuovere, a creare interesse su un'opera, su un lavoro, una durata differente. Grazie. 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 Grazie.